Questa noi la chiamiamo la Zingarata. È un tour tra i principali campi rom della regione. Una cosa semplice ma interessante. Non so se fosse un po' troppo. Ma poi si dorme nella roulotte. Non ci sta neanche la schietromassaggio. Eh signora Zingarata. A me mi piace molto. Manca a me mamma. A me mi fa schifo. Senta i miei figli sono un po' esigenti. Magari ha qualche altra proposta da farci. Nessun problema. Guardate qui. Macelleria genovese. Dalla scuola Diaz a tutti i luoghi del G8. Io a scuola non ci voglio. Ciro ma non si tratta di andare a scuola. È un tour. Io a scuola non ci voglio. Lui a scuola non ci voglio. Abbiamo altre proposte. Grazie. A pesca fra i barconi del Mediterraneo. I profughi signori. I profughi fanno sempre attualità. Però noi l'abbiamo fatto l'anno scorso. A me mi piace. Io ho preso anche una fastidiosa gastroenterite. Che l'abbiamo fatto l'anno scorso. Ma era o... Fadeva assai. Fadeva pesce. Ma veramente. Altra. Ho quello che fa per voi. Vi dico solo il titolo. Mori ammazzati.